Hai preso altri voti oggi? Un 6 in matematica. Un 6? Beh, non è male, no? Sì, anche se è la maglia della classe A7. Scusami, hai il lavoro, scusa. Anche nel weekend. Pronto? Luì! Suo figlio è in coma farmacologico. Sono sei mesi che faccio tutti i giorni ospedale, magazzino. Abbiamo visto tutti gli specialisti per poi... per non ottenere niente. Cose da fare prima della fine del mondo, che potrebbe arrivare prima del previsto. Tu credi che se realizzi quello che c'è scritto lì, si sveglierà? Io non lo so, mamma. Tu pensi che io sia folla? Sì, ma mi piace. Chi c'è scritto sulla lista? Fare un graffito sulla caserma militare. Aspetta! Ehi, fermo! Farò fotografare lo skate da KJ a Tokyo. Pronto? Per caso lei si trova in Asia? Assolutamente no, insomma, lavoro al momento. Qual è il prossimo desiderio? Vedi quel puntino laggiù? Quella sono io. Sapere chi è mio padre e incontrarlo almeno una volta. Avrai il diritto di sapere che suo figlio è in coma. Tu non gli hai mai detto che aveva un figlio. Radio Italia, Radio Ufficiale Questo film aderisce alla promozione Cinema Revolution del Ministero della Cultura.